Benvenuti al Festival Bar a Ligliano Saldiadoro! E adesso, dato che io... Ah no, aspetta, questa qua la lancio giù perché non mi serve niente. Ma sul palco è già pronto un personaggio che, insomma, prima cantava con i Crazy Town, completamente ricoperto di tatuaggi, faceva il tatuatore e veniva soprannominato The Monkeys perché faceva anche, così, dei graffiti e si arrampicava dappertutto. Intanto qua ci sono palle che girano da tutte le parti. Facciamo una cosa, vediamolo perché se no non si capisce più niente. E con noi, al Festival Bar, Shifty! Grazie! 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 Grazie!